Buonasera a tutti, sono Matteo di Roy Trading, uno degli studenti. Oggi andremo a mettere insieme un'operazione, in questo caso ho aspettato che la statistica ci restituisse i segnali. Passata la mezzanotte inoltrata, ho deciso di andare ad operare su Euro-Dollaro, posizione long, con una profittabilità dell'80% affidabilità analitica del 51,65 e un Roy del 219. Quindi andiamo a mettere insieme un ordine. Tutto quel che faccio ovviamente è andarmi a cercare Euro-Dollaro, vado ad aprire il mio file per Antimartingala. Vado nuovamente a cercare Euro-Dollaro. Ecco qui. Ora, capitale io opero con 50 Euro, quindi lascio così com'è. E poi andiamo giù. Ok, primo ordine a livello 1,21257. Andiamo, piattaforma, Euro-Dollaro già presente. Io opero manualmente. Quindi nuovo ordine, ordine pendente, limit, ovviamente perché essendo il primo pendente, poi in successione imposterò l'Antimartingala con buy stop, buy limit, a un lottaggio di 0,14. Già fatto. Take Profit. Andiamo a vedere il nostro target. 1,22057. Il prezzo di entrata sarà 1,21257. 1,21257. Vado giusto a ricontrollare. 1,21257. Adesso posso posizionare il mio ordine. Eccoci qua. Eccoci qua. L'ordine è partito, quindi andiamo subito a inserire tutto l'Antimartingala. Ovviamente ho fatto uno screen di quella che era la piramide uscita precedentemente. Quindi nuovo ordine. Vado a vedere la mia foto che ho sul telefonino, purtroppo non posso farvi vedere al momento. E mi dice di inserire un ordine con 0,08 lotti. Prendente ovviamente buy stop al prezzo di 2,1517 e con target sempre uguale 2,2057. Eccoci qua. E poi in successione tutti gli altri. 0,09. Take profit sempre uguale. 1,222057. Buy stop. Il prezzo di 0,2157. Il prezzo di 0,2157. Ancora un altro 0,1357. 1,222057. 1,2257. Il prezzo 1,2257. Non c'è bisogno di mettere questo ordine ovviamente perché supera il target. Quindi assolutamente no. Chiudo e devo soltanto attendere l'esito dell'operazione. Buongiorno a tutti. Questa mattina ci sono svegliati con una bella sorpresina. Come potete vedere l'operazione euro-dollaro che è durata all'incirca due giorni e mezzo su per giù. È andata dritta a target quindi mi sono svegliato con l'operazione chiusa con un profitto di 140. Quindi un ROI pari al 288%. Quasi leggermente più alto di quello che la statistica rilasciava. Che dire. Veso conto dell'operazione. Tempo impiegato operativo forse 10 minuti. Come avete visto nelle prime parti del video. Questa mattina la statistica ci ha fatto questo bel regalino. A presto. Buongiorno a tutti. Ennesima operazione. Sicuramente non mi ha cambiato la vita. Ma quello, diciamo, il punto che voglio andare a toccare è semplicemente l'operatività del sistema ROI Trading. Vi ho portato all'interno. Avete visto i file Excel di Google Sheets? Avete visto come montare un anti-marking gala in praticamente tre minuti e mezzo su per giù? E sono andato piano perché volevo mostrarvelo. Non ho fatto più niente. Assolutissimamente. Ho lasciato che l'operazione corresse da sola perché i Google Sheets mi dicevano di lasciar correre. E questa mattina ovviamente mi sono svegliato con l'operazione che era già arrivata al target. Ho guadagnato 140 euro. Non è una cifra che cambia la vita. Ovvio che no. Ma quello che voglio dire è affiancare il proprio lavoro primario, quel che sia, con questa metodologia trading può veramente aiutare in tanti. Non bisogna aspettare, non bisogna aver paura. Il trading è un'impresa online a tutti gli effetti, come tutte le imprese, ma la si può avviare con tanti meno fondi e meno sforzi. Bisogna solo applicarsi, studiare un minimo quello che è il sistema per trading e i risultati vi state vedendo. Vi porterò sempre più video e contenuti. Vi mostrerò anche le perdite quando ci saranno perché fanno parte del gioco. Ma ricordiamo che noi lavoriamo su stop loss equity. Quindi sappiamo quello che possiamo perdere per ogni singola operazione. In più, abbiniamo l'anti-martingala all'affidabilità navidica e creiamo un mix quasi perfetto. Non aspettare e diamo una svolta a quelle che sono le nostre vite. Ciao!